Musica La zona e la rete Qui è il gol Di Luca Lotti Era un grandissimo gol Romero Mamma che gol Ringresso in campo Sesta giornata Torneo 7 Cup che vede affrontare il Wolfsburg contro la Blue Team Napoli squadre che ora si apprestano a schierarsi al centro del campo per il saluto al pubblico del Kennedy Stadium Wolfsburg in maglia verde scuro, Blue Team in maglia blu ora le formazioni che passano a darsi il 5 e che poi si schiereranno a parte invertire del campo per dare inizio a questo match ora i due capitani al centro del campo per il tocco per la palla e per il campo capitano russo per Blue Team Napoli capitano Pippone capitano Pippone naso capitano naso squadriamolo ragazzi qual è il portavolo? come stiamo? ora possiamo dare inizio al match un saluto da Batenciar il tempo tra Wolfsburg e Blue Team Napoli risultato di 2 a 0 per la Blue Team ora ci prova nuovamente il tiro alla parata questa volta è l'estero difensore del Wolfsburg che prova a lanciare lungo Ruggiero controlla il pallone all'indietro per Esposito che avanza palla al piede ancora Esposito servire Ruggiero che allarga in malo modo e il proprio compagno rimessa laterale Blue Team ancora possesso di palla a Blue Team pallone per Difusco ancora Difusco al centro per Zavarese appoggia all'indietro palla che finisce in rimessa laterale rimessa laterale rimessa laterale per il Wolfsburg già battuta Esposito la palla a servire a ciotola che appoggia all'indietro per Ruggiero Ruggiero ancora pallone lungo a servire il proprio compagno si chiude la retroguardia Blue Team in qualche modo ma c'è calcio di punizione per il Wolfsburg quadriamo Martone in panchina nuovo look per lui andiamo ora la rivesta dal fondo Blue Team ci avanza palla al piede rischia la retroguardia Fulgura di Fusco appoggia il pallone il proprio compagno ancora Difusco e prova ad arrivare sul pallone ancora Difusco e prova le giocate pallone che termina ancora in fallo laterale per la deviazione di D'Ambrosio ancora il numero 17 Lauria ancora Difusco appoggio ehi ragazzi calma ancora vediamo Esposito la palla al nido per D'Ambrosio Esposito ancora Esposito prova a partire palla al piede ancora Wolfsburg pallone per Ruggero troppo largo la palla che termina in fallo laterale ma chiudiamo il collegamento per quanto riguarda questo primo tempo tra Wolfsburg e Blue Team risultato di 2 a 0 per la Blue Team un saluto tra Blue Team e Wolfsburg risultato di 3 a 2 per la Blue Team ancora ci prova Ruggero tiro alto sopra la traversa ci ha provato Ruggero col destro pallone che si perde sul fondo ora Difusco il controllo col petto prova la giocata la palla intercettata dai giocatori di Wolfsburg di Wolfsburg battuto esposto avanza palla al piede ancora D'Ambrosio in possesso di palla prova ad avanzare palla al piede il passaggio è errato pallone intercettato da Difusco che ora prova a servire il proprio compagno il passaggio è errato Ruggero intercetta il pallone serve il proprio compagno la palla allargata ancora il pallone al centro il controllo la finta poi il tiro devi alto la palla che termina in calcio d'angolo per il Wolfsburg la palla al centro libera la retroguardia poi ora D'Ambrosio prova la conclusione da lontanissimo pallone centrale è facile la preda del portiere Blue Team ancora Difusco in area di rigore il tiro è la splendida parata dell'estremo difensore Wolfsburg che salva la propria squadra calcio d'angolo Blue Team la palla al centro Russo non può arrivare sul pallone la palla che termina in fallo laterale per il Wolfsburg è esposo alza lo sguardo il pallone a servire il numero 22 ciotola ciotola il dribbling ancora ciotola il possesso di palla si porta il pallone sul mancino il tiro alto sopra la traversa ciotola ciotola è approvato ciotola ciotola stanno là stanno là sono uscito fuori ancora vediamo la rimessa dal fondo Blue Team ancora a salvare la retro la retroguardia la retroguardia la retroguardia la retroguardia Fosburg ancora Blue Team lancio lungo per Di Fusco la palla troppo lunga è direttamente in fallo laterale per il Fosburg D'Ambrosio il possesso di palla a servire Ruggero Ruggero che avanza palla al piede pallone allargato per il proprio compagno che controlla la sfera prova a calciare il pallone che termina in fallo laterale ancora D'Ambrosio la palla allargata per Ruggero Ruggero lascia Esposito ancora per Ruggero Ruggero il controllo difficoltoso di Fusco a recuperare il pallone prova a far partire ora i suoi che avanzano palla al piede ancora pallone messo al centro a salvare tutto ancora D'Ambrosio che mette la palla in calcio d'angolo calcio d'angolo effettuato la palla il tiro splende ancora la risposta del portiere del Fosburg non ci fermiamo ancora Ruggero il controllo la palla a servire il primo compagno che prova a servire ciotola il pallone che viene rinviato lungo per la retroguardia della Blue Team ora D'Ambrosio per Esposito ancora per D'Ambrosio che però preso in controtempo non riesce a controllare il pallone rimessa laterale ora Blue Team la palla allargata ancora Blue Team che prova a Redes pericoloso lì davanti Esposito riesce a tenere il pallone il movimento il movimento ragazzi ancora il pallone per di Fusco che prova a dribblare D'Ambrosio che ringhia su di lui il pallone scaricato all'indietro ancora Blue Team che prova ad impostare la palla che pro termine il fallo laterale ma per questo secondo tempo è tutto un saluto da Batenchara grazie